Sardides a Sardinia ricorda i Vespri Sardi che il 28 aprile 1794 allontanarono da Cagliari piemontesi. Facciamo un passo indietro, partiamo dall'inizio del 1793, quando i francesi volevano portare in tutta l'Europa la loro rivoluzione. Occuparono l'isola di San Pietro, sbarcando sulle spiagge di Quartus Sant'Elena e tentarono di occupare l'isola della Madarena, ma vennero respinti in mare dalle truppe sarde. Respingendo l'invasione salvarono anche il dominio dei piemontesi sulla nostra isola, ma il 28 aprile 1794 i Sardi allontanarono da Cagliari piemontesi e il vice re Balbiano, perché si rifiutarono di concedere a noi sardi una parte degli impieghi civili e militari. Con maggiore autonomia i piemontesi volevano in totale il controllo della Sardegna. scoppiò quindi una rivolta e i piemontesi furono cacciati da quartiere di Castello e dagli altri quartieri della città. Dovete rimbarcarsi e costretti a lasciare la Sardegna, la nostra terra. Quel giorno è passata la storia come Sadide Sacciappa, il giorno della cattura dei piemontesi. Per distinguere i sardi da i non sardi, infatti, quando si incontrava delle persone per le strade, gli facevano la domanda di dire Nara Cigi. Chi non pronunciava bene la X veniva condotta immediatamente all'imbarco. Buona di questa Sardegna a tutti i suoi polosardi.